Pumata nera per la seconda volta al Parlamento europeo. Il secondo scrutinio per le elezioni del presidente dell'emiciclo che si sta svolgendo a Strasburgo ha rivelato un aumento dei consensi per il socialdemocratico Pittella votato da 200 eurodeputati ma senza scalfire il vantaggio del candidato di centrodestra Antonio Tajani che ha riportato 287 voti. Anche stavolta non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per eleggere il nuovo presidente. Si torna alle urne quindi per un terzo turno in cui si sfideranno gli stessi sei candidati dove sarà decisivo il voto dei riformisti conservatori e dei verdi.